Assessore, promessa mantenuta, l'intervento è partito. Sì, un nuovo luogo di socievolezza che appunto verrà costituito all'interno di un quartiere che da tanto tempo veramente ci è stato richiesto. Andiamo a riqualificare Piazza Capuana. Ricordiamo che in quel luogo c'era una fontana precedentemente e che i residenti a gran voce ci avevano richiesto invece di creare un'area verde proprio per evitare quelli che erano atti vandalici e ricreare anche un senso proprio di benessere perché poi il verde porta anche questo. In questo caso siamo intervenuti quindi stiamo bonificando proprio tutta la fontana abbiamo distrutto quello che era la parte un po' di mosaico e quindi di tutto l'indotto idraulico al di sotto per favorire invece l'inserimento di quello che è terreno di un bel ulivo che sarà al centro con tre fari che lo illumineranno nella parte notturna ci sarà poi anche un indotto di irrigazione per cui sarà autonomo in questo e delle nuove piante. Verrà bonificata anche la parte esterna nel senso che il calcestruzzo è un po' trattato per far sì che le parti ammalorate si alliscino e colorato e inoltre ci saranno proprio dei nuovi arredi quindi tra i nuovi set di sedute panchine delle nuove panchine che saranno attorno alla fontana proprio perché il bisogno è quello di trovare luoghi dove le persone possano essere comunità dove fare relazioni è fondamentale veramente per tutti al di là di quello che poi succede conseguentemente ma il bello porta al bello e quindi questo è sicuramente un messaggio che vogliamo diffondere. Oltre a questo prevedete anche altri interventi nel quartiere? Sì, abbiamo previsto appunto un intervento sul parco limitrofo dove ci sono i giochi dove c'è lo sgambatoio lì c'è una seduta tutta ammalorata l'andiamo a ripristinare, tutte le parti verranno levigate verrà smontata la parte in legno e ribonificata, riappoggiata e poi con gli scout che si sono già resi disponibili andremo a pitturare tutta la parte sottostante per cui ecco il coinvolgimento tutto del quartiere.